Adesso facciamo la modalità CAM, Constant Active Motion. I criteri di programmazione sono sempre gli stessi, quindi numero di serie, velocità, numero di ripetizioni, tempo di recupero, tensione massima come prima se voglio avere un dato di sicurezza, target di forza, anche qua possiamo mettere un valore che il paziente deve produrre. Copio per avere i dati, anche qua vado a impostare il ROM, il più, l'inizio e la fine dell'esercizio, copia, qui si vedono i risultati, inizio qua devo spingere, se spingo giusto mantengo il target è azzurro, se spingo poco diventa giallo, se resisto troppo diventa rosso, se lavoro bene è sempre azzurro. riprende, e poi ricominciamo, come vedete c'è scritto spingi, ok o riduci, quando se spingo troppo mi dice riduci, se sto basso mi dice spingi. in alto c'è il numero di serie che devo fare, quella e quale serie sto lavorando, e anche le ripetizioni. ok stop 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 stop